Come e perché si può vivere nel nulla? E che cosa si prova a vivere nel nulla? Questa volta, in questa quinta convention, non avrete un uomo da applaudire, oppure da toccare. Avrete solamente un'idea e uno spirito da scegliere o da rifiutare, da portare con voi o da abbandonare. La scelta per ciascuno di noi presente in questo stadio o che guarda da casa sia, una volta per sempre, legata a ciò che ciascuno di voi sa, ha visto con i propri occhi, a ciò che egli conosce, a ciò che ha realmente vissuto. Noi non abbiamo potuto andare, perché non sapevamo dove andare, ma abbiamo potuto ricevere un piccolo pacchetto, un piccolo regalo. E adesso è giusto che lo apriamo e che scartiamo questo regalo tutti insieme. Comunque, la si voglia interpretare, questa vicenda, dentro questo piccolo pacchetto che adesso andremo ad aprire insieme, c'è un'anima. E per quanto ciò possa apparire a qualcuno melodrammatico, io prego ciascuno di voi di prendere un pezzetto di quell'anima e di farne l'uso che voi credete. Via al filmato. Proviamo ad annullare per un attimo il concetto del tempo e dello spazio e proviamo per un attimo a immaginare la realtà, ovvero che non sia in altro posto che lì, a pochi metri da voi, perché non c'è un altro modo di parlare, non c'è un altro modo di dire le cose e di ascoltarle. Solamente attraverso lo stare vicini. È possibile riuscire a dire cose, ma a fare in modo che venga capito ciò che hai nell'anima. Ecco, questo è quello che io vorrei in questi pochi minuti, ma da solo non ce la faccio e mi dovete aiutare voi per forza. Se vi guardo, posso solamente dire di guardarvi. Vi posso soltanto dire di girarvi intorno, girare lo sguardo. Io riesco a vedervi, e spero che voi riusciate a vedere me. Riesco a vedervi chiudendo gli occhi, riesco a vedervi perché vi conosco, riesco a vedervi perché so dove andavate e so dove state andando. Io so dove andavamo e io so dove stiamo andando, nelle cose che dovevano succedere. Tutto questo, questo che vedete, è qualcosa che doveva succedere. Mi hanno detto che è un miracolo, non è un miracolo. È una cosa scontata da centomila anni. All'interno di una situazione, all'interno di una struttura, all'interno di qualsiasi cosa, la parte migliore prevale sempre. E deve essere così. Nei giorni che hanno preceduto questa convention, io mi sono chiesto un milione di volte che cosa dovevo dirvi, che cosa potevo dirvi, cosa potevo non dirvi. Ho parlato con i miei legali e mi avevano detto di dirvi delle cose, ma io non riesco, non sono capace di dirvi quello che dicono gli altri o quello che mi dicono gli altri. E spero che stasera mi perdonerete. Ho bisogno di dirvi quello che sento, quello che provo, quello che ritengo vero, perché credo che alla fine valga la pena di combattere per ciò che si ritiene vero. A volte il vero è diverso, a volte il vero è vero per qualcuno, ma prima di diventare vero per tanti ci vuole tanto tempo, ci vuole a volte del dolore, ci vuole della sofferenza, ma se vi guardo mi rendo conto che non è dolore, non è sofferenza, forse è solamente destino. I passi che si sono fatti per entrare in questo stadio, i metri di terreno che si sono bruciati sotto i piedi per entrare in questo stadio me li sono presi tutti io, e i vostri milioni di passi, e i milioni di metri che da ogni parte d'Italia avete fatto per essere qui questa sera, non ad ascoltare me, ma ascoltare voi, una volta tanto e finalmente. Io me li sono presi come regalo, e con essi io ci addobberò nel modo più bello che sia possibile, qualsiasi stanza della mia vita, che essa sia una stanza di una casa, o prima o poi una stanza di un carcere. Poco importa ciò che si è, si è il soffio di un momento, si è il soffio di un attimo, importa ciò che si ha dentro ed importa ciò che si riesce a dire e che si riesce a dare. Ecco, quello che voi mi avete dato, l'avete riservato a pochi. Eravamo distrutti, avviliti, sconfitti, ma non nel modo di essere, ma nel modo di pensare. Ognuno di noi continuava la sua vita, chi in un modo diverso come me, chi in un modo più normale come ognuno di voi, ma dentro sentiva che qualcosa mancava. Dal 1991 sentiva che qualcosa si era interrotto, che una strada difficile, bella, brutta, piena di ostacoli, a volte in discesa, quasi sempre in salita, ma comunque una strada che si stava percorrendo per scelta, era stata interrotta, c'era un ostacolo. Io non so com'è, avete fatto, o forse lo so, avete preso una bacchetta magica, avete pregato per un attimo, vi siete comportati da uomini, questa strada adesso è davanti, libera, e gli ostacoli sono molto meno. Quando io, tanti anni fa, mi trovai a parlare per la prima volta alla gente, mi resi conto che c'era qualcosa, nella gente tutta di meraviglioso, che era più bello di un quadro, che era più bello di un ammattino, che era più bello di un tramonto, che era più bello di ogni cosa, perché era quel qualcosa voluto da Dio, cioè quel qualcosa che nasceva, quando la gente si aggrega, quella forza enorme, immensa, spaventosa, che nasce dalla certezza di avere ragione, che non è avere i paraocchi e seguire una linea retta senza vederne i contorni, assolutamente, è un qualcosa di inconscio, è un qualcosa che ti prende da Bari, da Napoli, da Trento, da Merano, da Bolzano, da dovunque, che ti fa dimenticare, che ti fa dimenticare completamente tutto ciò che è stato detto, tutto ciò di cui ti hanno bombardato, ti prende per mano e ti accompagna una sera di settembre in uno stadio che non ci doveva più essere, e di ventigente che non ci doveva più essere, ma c'è. Ecco che cosa avete fatto, ecco che cosa abbiamo fatto, abbiamo solamente ribadito nel 2000 la capacità di esprimere il diritto di essere come si vuole, che non è fare ciò che si vuole. È facile adesso pensare di essere vicini e annullare il tempo e la distanza, adesso è più facile, ed è necessario farlo, perché quando anni fa, o minuti fa, o secondi fa, non me lo ricordo e non ha importanza, io vi dicevo, la gente è in grado di fare le cose che ora fate fare a me. Ecco, voi avete dimostrato che era vero, voi avete fatto questo stadio, voi siete venuti a prendermi e portarmi qui dentro e mi ci avete cacciato dentro di forza e mi avete detto, e adesso parla, perché siamo venuti qui anche per ascoltarti, non per ascoltarti, anche. E adesso Giorgio ha il dovere di parlare, ha il dovere di annullare questi anni che sono passati, ha il dovere di annullare le umiliazioni, ha il dovere di annullare la paura, ha il dovere di annullare il dolore, ha il dovere di annullare il peso di una terribile storia che per quanto terribile tu non hai il diritto di far pesare a nessuno perché noi siamo la gente, noi siamo l'Italia, noi siamo coloro che decidono, che determinano, siamo coloro che ascoltano o che non ascoltano, noi siamo coloro che parlano, voi siete coloro che parlano e questa notte fatelo. A chi parlare? Per cosa parlare? Perché parlare? La risposta a ognuna di queste tre domande l'avete data venendo qui, perché siete qui? Siete qui per dire, non per ascoltare. Io non sto parlando a voi, io sto ripetendo per come sono capace ciò che voi state dicendo. Se l'Italia è così, non ce l'avete ridotta voi, non ce l'abbiamo ridotta noi. Avevamo debiti, chiedere a Ferruzzi per informazioni. Avevamo operazioni che non andavano bene. Forse allora è perché eravamo onesti e quando sei onesto forse qualcosa non va bene. Forse ti trovi di fronte a un meccanismo che ha paura di una notte come questa. E non si finirà mai di ringraziare i giudici di mani pulite, perché il 99% del merito di questa notte di settembre è vostro, ma l'1% è loro. E magistratura e gente, e magistratura e cittadino, insieme, hanno creato questo stadio e l'hanno fatto risalire da dove era stato sprofondato, ma non da dove era stato sprofondato da atti compiuti o non compiuti, da crimini o da cose di questo genere. Vi era stato sprofondato dalla paura che un giorno in questo stadio si avesse evidentemente ragione. Ecco, in questa notte di settembre noi abbiamo evidentemente ragione. qualsiasi cosa io possa aver fatto e io so di non aver fatto qualsiasi cosa, questo non toglie una virgola ai crimini compiuti contro di voi da coloro che per interesse, per denaro, per potere, per meschinità hanno utilizzato ogni cosa per farvi sparire, per farci sparire. La risposta è qui, per 4.000 volte non siamo spariti. Questo non vuol dire essere migliori, non vuol dire che la mia situazione sia diversa e non vuol dire che voi diventate ricchi domani mattina. Questo vuole solamente dire che un primo passo è stato fatto. Un primo passo che si chiama retemia, ma retemia c'era anche prima. Un primo passo che si chiama domovidio, ma domovidio c'era anche prima. Un primo passo che probabilmente si chiamerà mia viaggi, ma mia viaggi c'era anche prima. Un altro passo si chiamerà forse immobiliare di mercato, ma l'immobiliare di mercato c'era anche prima. In questi anni, in questi tre anni in cui si è combattuto per riprendere ciò che c'era prima, dove lo troviamo un senso, ma lo dobbiamo trovare. Dio non inventa nulla. Indica le strade. A inventare siamo noi. Eravamo troppo giovani. Non avevamo capito tutto. Forse anche oggi non abbiamo capito tutto, ma qualcosa in più l'abbiamo capito. Prima credevamo alle favole, giocavamo agli indiani e ai cowboys. Leggevamo sulle favole chi c'erano i cattivi, ma non ci credevamo mica davvero. Oggi abbiamo imparato a crederci. Abbiamo imparato a crederci. Ci sono i cattivi che ti aspettano all'angolo della strada. E quando svolti la strada fischiettando contento o camminando comunque pensieroso e comunque vivendo te stesso e il tuo futuro, ci sono i cattivi col bastone che, pum, ti piegano le gambe. Ecco, quello che noi abbiamo imparato è che questo purtroppo è vero. E ce lo ricorderemo.